Ma l'articolo che secondo me restituisce assai bene il clima e il clima consociativo che c'è spesso tra giornalisti e politici è l'articolo di Daniele Preziosi a pagina 5 del domani. Quindi racconta Preziosi solo un saluto avvertono tutti i suoi niente domande sono un ringraziamento e quindi a un certo punto racconta Preziosi da parte di Draghi affettuosità per i cronisti siete una stampa libera avete avuto dal presidente del consiglio da me il rispetto che si deve e alla fine diciamo le sue parole vengono salutate con un applauso ma in nota Preziosi i cronisti non dovrebbero applaudire e infatti addirittura Draghi che in qualche modo e simpaticamente li rimbrotta. Non dovete applaudire non applaudite prende in giro i giornalisti molto molto efficace e secondo me anche molto preciso questo articolo e tra l'altro si replica una una scenetta un teatrino che a conclusione delle conferenze stampa di fine anno dei presidenti del consiglio ultimamente i giornalisti applaudivano al termine dell'evento insomma una roba che non si vede.